Dall'Accademia Zelantea per spostarsi verso la chiesa di San Rocco, la Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata, Museo Diocesano e altrove. Un percorso espositivo sul quale si basa la mostra diffusa Ego di Giuseppe Patanè, inaugurata stamane da parte dello stesso artista e del curatore, critico d'arte Carlo Micheli. Un momento di cultura per la nostra città, ha detto il sindaco Roberto Barbagallo, intervenuto insieme al vescovo di Ecireale Monsignor Antonino Raspanti e al presidente dell'Accademia Zelantea Michelangelo Patanè. Mi ha dato l'input, prosegue Barbagallo, per far rivivere nuovamente il teatro Bellini di Ecireale. Anni fa avevamo inaugurato il foyer, Patanè e Micheli si sono innamorati di quello spazio e questa sarà l'occasione per noi di riconsegnarlo nuovamente alla città. 9. Le location scelte per esporre le opere dell'artista estrapolate da diversi cicli. Oltre a quelle già citate, si aggiungono la Sala Zelantea del Palazzo Comunale, Chiesa di San Benedetto, Teatro Bellini, Chiesa degli Agonizzanti San Crispino, Chiesa di Santa Maria o di Gitria, dove poter visitare le opere. In questi siti il visitatore potrà conoscere la produzione artistica di Patanè, dove la pittura, scultura, fotografie, installazione, oggetti d'arredo, gioielli, sperimentazioni alchemiche da lui create, senza l'uso di pennelli, spatole o altro attrezzo, strumento, insieme formano dei veri e propri camei, dove non solo naturali e mirabili si alternano, ma viene analizzato il concetto di ego e tutte le desinenze ad esso riferite. Una ricerca artistica improntata su temi sociali e al richiamo a quelle forme di rispetto verso i nostri simili e verso il mondo che ci ospita, dove si emince un richiamo alle radici storico-mitologiche della terra siciliana, alle sue tradizioni culturali e al concetto di bellezza che si tramuta in rispetto verso la natura, il mare e il vulcano. La mostra, patrocinata tra l'altro dalla regione siciliana Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana e Fondazione Maria Barbagallo, può essere visitata nelle nuove location scelte, tutti i giorni dalle 18.30 alle 22.30 fino al 29 settembre.